Sicuramente il dato delle elezioni regionali del Lazio è che c'è stata da parte di tutti voi, di tutti noi, nello stesso giorno una incredibile, straordinaria e bellissima rimonta nel voto e confido nel fatto che i cittadini del Lazio per la prima volta nella storia della nostra regione abbiano confermato il loro presidente per il secondo mandato. Non fate così che mi viene da piangere. Come ho detto è un risultato che vi ha visto protagonisti di straordinaria importanza perché purtroppo è avvenuto nello stesso giorno della forse più devastante sconfitta nella storia della Repubblica per le forze del centro-sinistra e nelle urne nello stesso istante l'aver ottenuto che tanti cittadini abbiano consapevolmente fatto quella scelta è un fatto democraticamente di grandissima rilevanza. L'Italia è un paese meraviglioso, sta vivendo un momento difficile della sua vita democratica. io non so se vive la prima, la seconda o la terza Repubblica ma io so che noi ci staremo in questa Repubblica difendendo la Costituzione forti delle nostre idee e dei nostri valori e a testa alta, combattendo per i valori in cui crediamo, senza timidezze e orgogliosi. questo è un voto infatti guardate che vivezza a piangere dopo da fare un'altro milanosa di tutti complimenti grazie 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 grazie